Uno sci, 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 sci Bella raga, bella raga Il giorno di paga, paga Lo prende in bocca, dopo lo fa Ciao a tutti ragazzi, sono Zedawillix Oggi sono qui con un nuovo video E oggi siamo su FIFA Sì perché giochiamo la DV Cup Un torneo in cui se praticamente vincerò Andrò a Berlino con due persone Ovviamente, chiaramente Non sto giocando da solo perché qui c'è anche Foolish, ciao a tutti ragazzi Non so quanti di voi mi conoscono Perché comunque i nostri target sono un attimino diversi L'unica cosa che ci accomuna è DV Move Siamo entrambi sotto DV Move E quando hanno organizzato questo torneo Io sono Juventino, sono stato a Berlino Vedere la finale di Champions E ho detto, io a Berlino ci devo tornare Quindi Willy mi dispiace, oggi sei sulla mia strada E ti toccherà andare a casa subito Agli ottavi di finale Ok, ok, perfetto Grazie mille L'incoraggiamento direi che possiamo iniziare Certo Io ho scelto il Barcellona Ho anche la maglietta del Barcellona addosso Come potete vedere Quindi facciamo le squadre e iniziamo Si parte Iniesta All'indietro Rakitic Daniel Alves Quant'è che non giochi a FIFA, Willy? Ovviamente non tantissimo Il problema è che Io gioco a FIFA Solamente per fare pro club Alleggiare l'attenzione Si esatto Si può tagliare col coltello Are Robben Ecco Potrebbe essere un problema Alham che spinge sulla fascia Contro Mascherano Bello il cross subito Bravo Bravo La Champions però Ha vinto quel maiale Questa Macca boia Era l'unica cosa Che poteva perdere Eppure È l'unica cosa Che ha vinto Suarez C'è una scorreggia Ha scorreggiato Sul pallone Ho perso Non so cosa No 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 Ma non è possibile Messi Di prima Noer Si appoggia subito così E poi ancora dentro Che chiusura di Benatia Tante Benatia Ecco Trebbe essere un problema Adesso Lozze Sul fondo Fermato È un rimpallo Scripting di FIFA Attenzione Un rimpallino Ecco Grazie FIFA Grazie No Per fortuna Non è che scendi la prima volta E mi fai gol Non vale Finisce il primo tempo Non bellissimo Però Primo tempo Zero zero Secondo tempo Che inizia subito Avaro di emozione La prima frazione Io non vedo Non vedo Dai Lai Sì ma se non riesce a tenerla Messi però La riconquista Messi Il tiro Ma vaffanculo Ancora Messi In area Messi Ancora lì nei mari Il tiro Eh no Perché Doppio palo Sembrava eccessivo Neymar Trovo un gol bellissimo Però Il tuo difensore Ha lasciato lì il pallone Ha deciso che Non voleva fare fallo Eh Chi era Benatia Si Eh Ha fatto Un po' Una cassatina Va bene così Io sono soddisfatto 1-0 di Neymar In qualche modo Busquets Si gira E poi rischia di perdere il pallone Busquets Ancora lui Ecco Ha fatto la cassata Ha fatto la cassata Ripara Attenzione Con Piquet E mascherano Gli unici due A difendere Però Riusciamo in qualche modo A sventare la minaccia Dentro Bella così Neymar Può viaggiare Può correre Neymar Sulla fascia Benatia Non può tenerlo Neymar La mette Bassa Permessi Che salvataggio hai fatto Ma che salvataggio hai fatto Ecco Robben contro di Niesta Potrebbe essere un bel problema Robben in possesso del pallone La mette dentro Riusciamo a uscire Forse Invece no Ancora qui Gosse Che si gira il tiro di Gosse E la traversa Un palo a testa Un palo a testa Un palo a testa Ci sta Per fortuna Oh wow Bernat Al cross Bernat All'indietro Sergei Busquets Lo riesce a tenerla Attenzione Buttiamolo giù Buttiamolo giù Il tiro Deviata Calcio d'angolo Calcio d'angolo Per fortuna Riveri La mette Attenzione Bellissimo Eccolo 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 E andiamo La parità Lewandowski Era con il tono Go La karma è una puttana Eh No no esatto Funzione così Ecco Attenzione Palla dentro Di Robben Per Robben 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 Mamma mia Non gliela togli Invece Mascherano Ci riesce in qualche modo Adesso Robben Ma per vie centrali Ma per vie centrali Ma per vie centrali C'è un piede buono Un piede no Esatto Sembrano i miei Mamma mia che bello Attenzione Attenzione Ancora in possesso Del pallone Andiamo Uh Per fortuna Direttore Direttore C'è il pallissimo È PALLO È PALLO È vero Era pallissimo Ragazzi Però Non ci Dai non ci può Non ci può Ti ha tirato un pugno Bene Vado a casa Dalla coppa Così C'è Appena fatta Asciugo i soldi Col phone Ho persone attorno Che mi chiamano Tom E' un'opera D'arte stesa L'arte Sul futon C'è Dio santo La rimonta stranissima Errori di gioco Pazzeschi Ma lo so Era anche giallo Giallo non lo so Però E continuano a dire Che non c'è lo script Continuano Vanno avanti Con questa storia Che non c'è il momento Pazzesco Iei fate schifo Allucinante Ma guarda Non me ne frega un cazzo Non me ne frega un cazzo Devo ringraziare Devo ringraziare Più che altro Sì Ti stai mandando a cagare A Berlino Li posso offendere Io se vuoi Oh Attenzione Nei mar Nei mar Ecco Giordi Alba La mette Giordi Alba Al tiro Ho parlato ragazzi Ho parlato Ma cosa mi sono mangiato Quando parlo Anche nell'attività Su GTA Faccio C'è sempre qualcosa C'è sempre qualcosa Oddio il portiere Oddio il portiere Cosa mi sono mangiato Io alla fine Cosa mi sono mangiato Io alla fine Bravo Eh ho visto Ma bravo mica tanto Sì dentro No 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 Andiamo Andiamo ragazzi Finita Si spera Si spera Almeno Lo so che Farò schifo Nelle altre partite Però ragazzi Qui stiamo avanti Che sconfitte indegne Incredibile Incredibile Io lo vorrei rivedere Cioè Se fosse un post partita Sarebbe Veramente Pieno di offese Per l'arbitro Complimenti Complimenti a te Io l'avevo respirato No Vabbè È un gioco Mi spiace Solo non andare a Berlino Sono contento Adesso farò Tipo per te Quindi Devi Devi dimostrare Il tuo valore Andando avanti Eh dai Almeno Speriamo Io ringrazio Willy per il video Vi saluto Magari Passate per il mio canale Se non mi conoscete Passate sul canale Di Foolish Che è stato gentilissimo Un avversario Veramente modesto No Grazie a te Davvero Date Un'occhiata al suo canale Fa contenuti di FIFA Rispetto mio Che non so neanche Come cazzo Sono passato Ti dico la verità Eppure ho perso Pensa Dovrei cambiare canale Probabilmente Assurdo Assurdo E credibile Quindi niente ragazzi Detto questo Vi ricordo Se un piacere Perché ci vuole solo Molti secondi Lasciate un piacere Lasciate un piacere La troverete In questo video E troverete anche Il canale di Foolish Inoltre Iscrivetevi al canale Se non avete ancora Fatato ancora di contenuti Da Zwillix E Foolish Saluto È tutto direi Direi È tutto Al prossimo video GTA E dove accadono le cose Incontri Scontri Esplosioni I culi E lavarsi con la benzina Asciugarsi con il fuoco C4 sui motorini